ciao raffaele benvenuta grazie sei pronta per electricity di molto vedrai che c'è una telecamera è la macchina per le donne e poi frena da sola e quindi figo e figo il motore elettrico quando tu gli dai energia lui riprende subito si mi piace un sacco quanto dura la carica 160 km che possono anche aumentare un po se scegli dei programmi di guida come ad esempio l'eco pro e quindi puoi avere anche un po più di autonomia è meravigliosa